E' una Maurizia paradiso esplosiva, quella che a margine della conferenza stampa di presentazione del Miss Ex parla di Chiambretti. Maurizia non è soddisfatta dell'uso improprio che Pierino ha riservato all'abito di Moana. Ecco, io vorrei lanciare questo messaggio al signor Piero Chiambretti di Chiambretti Night. Piero, ti ho dato una mano quando me l'hai chiesto e hai avuto bisogno. Ti sei preso l'abito di Moana, che avesse dovuto metterlo all'asta per fare beneficenza all'ospedale di menaggio al dottor Mosca, reparto gastroenterologia, dove mancano i bisturi elettrici del colon. L'abito di Moana Pozzi, col diadema, gli orecchini e tutto, l'hai sfruttato per sei mesi. E' sparito e non è stata fatta beneficenza. Chiambretti, Chiambretti, Piera, fai la bravo. Questa è bellissima. Fantastica è come sempre e solo Maurizia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.